Mr. Rain con due altalene qui su Radio Bruno. Allora noi ne abbiamo parlato tutta la settimana in diretta, l'abbiamo scritto ovunque sui nostri social e finalmente qui con noi. Mr. Rain, ciao Mattia, benvenuto. E sono passato a trovarvi. Buongiorno. Come stai? Molto bene, grazie mille per questo invito. A parte che secondo me questo per te è un periodo bellissimo post Sanremo, mese di marzo dedicato agli store, nove store in giro dove comunque incontrerai i fan, le persone che ti vogliono bene. È il momento più bello, il momento più bello di tutto il mio lavoro è il momento in cui entro in contatto con le persone che mi supportano, quindi in store e tour sono i miei due punti preferiti. Esatto, ricordiamo che poi a novembre ci sarà il tour in sei palazzetti, il primo tour nei palazzetti. Il mio primo tour nei palazzetti, sto già preparando tutto lo spettacolo, voglio che sia un'esperienza più che un concerto karaoke, voglio che la gente che ci sarà in sala torni a casa con qualcosa di diverso, con qualcosa in più. Con un bel ricordo, tutto questo ricordiamo perché comunque due giorni fa è uscito il quinto album, Pianeta di Miller, perché questo titolo? Perché sono un super fan di Interstellar, è una cheat e ho scelto questo perché intanto il pianeta di Miller è un pianeta composto al 100% dall'acqua, quindi è perfettamente in linea con il mio nome d'arte che è Mr. Rain. E secondo perché spesso io mi sento come il protagonista, cioè mi sento di viaggiare a una velocità diversa rispetto al resto del mondo, quindi questa cosa, questo mio continuo vivere proiettato nel futuro, spesso non mi fa fermare e godere di ogni cosa, di ogni traguardo, a dedicare il tempo giusto alle persone che amo. Quindi è una promessa che mi sono fatto, devo imparare a gestire il mio tempo perché non voglio trovarmi tra 50 anni a pensare, ho fatto tantissime cose ma quante di queste le ho vissute al 100%. Chiaro, e poi se non sbaglio sul pianeta di Miller, in realtà un'ora sul pianeta di Miller equivale a 7 anni sulla Terra. Sì. È possibile? Sì, sì, sì. Si parla di tempo come hai detto nell'album, lo ricordiamo, l'ho ascoltato, bellissimo, si parla molto anche del rapporto con se stessi, no? Sì. Com'è adesso ai 32 anni, lo ricordiamo? Purtroppo sì. Il rapporto che Mr. Rain ha con se stesso, con Mattia. Ora sto bene, ho fatto anni a combattere contro me stesso, come il nemico di me stesso, quello principale, adesso però ho trovato una sintonia e mi sento veramente meglio. Questa cosa si ripercuota anche sui miei rapporti personali, sulla mia musica, su come vivo le mie giornate, quindi sono in continuo studio e miglioramento nei confronti di me stesso, però ora mi sono accettato, ora non ho più paura di dire che ho paura di mostrarmi fragile, insicuro, pieno di paura come tutti quanti noi, è una cosa normalissima, però ora sto proprio bene. Tra l'altro mi hai fatto venire in mente quando parlavi una frase di Fiori di Chernobyl che dice un uomo è forte quando impara di essere fragile, giusto? E' questo il succo di tutto questo. Esatto. Tra l'altro abbiamo appena ascoltato Due Altalene, io l'ho ascoltata tanto negli ultimi giorni, la possiamo considerare un po' la figlia di Supereroi? L'eredità di Supereroi stessa, cioè da Supereroi in poi è cambiata una cosa nel mio pubblico che non mi era mai successo fino a un anno fa, cioè che la gente ha cominciato al posto che chiedermi sempre le foto o le firme, spesso mi chiedeva di incontrarmi anche dopo i live in giro per strada per raccontarmi di come la mia musica e in questo caso Supereroi stessa sia stata di supporto in un momento forte, doloroso, tragico come può essere quello di una perdita. Quindi io da tutte queste storie ho iniziato a scrivere Due Altalene, il tutto è nato da una storia che mi ha colpito, mi ha spezzato il cuore in centomila pezzi, che è la storia di un genitore che ha perso due figli che erano miei fan e questa cosa mi ha destabilizzato totalmente e da quella hanno cominciato a arrivarmi decine se non centinaia di storie perché anche per lettera... Esatto, come ti sono arrivate? Cioè sui social o proprio di persona ti consegnavano anche delle lettere? Di persona, spesso mi hanno raccontato di persona tutte queste storie, ma anche lettere, messaggi, email, qualsiasi modo per comunicare. Quindi io sono tornato a Sanremo solo per questo, per omaggiare tutte queste persone. Io come l'anno scorso non ho fatto una gara per il podio, per il primo posto, per il terzo posto o l'ultimo. Io ho scelto di tornare solo per dare il mio contributo e omaggiare a tutte queste persone che si sono confidate con me. Chiaro, perché poi tu a Sanremo ci avevi già provato ad andare prima di... Anni fa sì, con Fiori, ho fatto tipo tre anni. Ma sfatiamo questo mito un attimo perché magari uno va a pensare ci sono chissà quali meccanismi dietro. Però come funziona? Tu hai una canzone pronta, la mandi ad Amadeus. E se gli piace ti prende, se no no. Ok, ma come succede? Dopo lui ti chiama e ti dice guarda va bene, ci sei? A me non è mai successo. Io l'ho sempre scoperto sia quando non ero stato preso che quando sì al TG1. Io fino all'ultimo giorno ho sudato freddo per anni. No, bellissima questa cosa perché capita uno va a pensare, invece no, lo scopri come tutta l'Italia. Come tutti, sì, sì, in tempo reale. Allora, nell'album come detto uscito due giorni fa, Pianeta di Miller, c'è anche questa canzone qua, insieme a Clara. La vuoi annunciare tu? La vuoi annunciare tu, sì, sì. Questa è Un milione di notti, Mr. Rain featuring Clara. Un milione di notti, Mr. Rain insieme a Clara qui in diretta su Radio Bruno. La prima canzone che è anche all'interno dell'ultimo album, lo ricordiamo, uscito due giorni fa, Pianeta di Miller, Mr. Rain che oggi è qui con noi. Sai che comunque ascoltando l'album, io ti seguo dal 2015, dai tempi di Carry On, quando feci uscire il video su YouTube. Tra l'altro parlando di Carry On, quella fu una delle prime canzoni. Fu la prima che mi ha permesso di fare questo, quindi è stata la prima a arrivare a un sacco di persone. Parlando dell'album e conoscendoti comunque già da diversi anni, stavo notando che sono 11 brani, cioè in realtà 10 brani più una citazione, possiamo dire. Esatto, esatto. Qual è questa citazione? Allora, intanto sono onorato di avere questa fortuna, ovvero di avere Francesco Prando che è il doppiatore ufficiale del protagonista del mio film preferito che è Interstellar, che fa Cooper. È una riflessione che ho scritto sul tempo, sul fatto che non posso controllare il tempo ma posso scegliere come viverlo. Quindi tutto nasce appunto dal concetto del pianeta di Miller, è il discorso che ti ho fatto prima. Sì, è chiaro. Che poi ci sono due o tre canzoni che ricordano molto appunto il tuo stile, altre un po' meno, nel senso che mi viene da dire... Ho sperimentato molto di più. Infatti ti dico, è forse il mio disco più eterogeneo, è molto più vario a rispetto a quelli vecchi. Non è una fine di un percorso ma è un'apertura verso un mondo di sperimentazione. Ho riscoperto questa cosa nel divertirmi e sperimentando su altre... su un altro filone, su un altro tipo di musica. Voglio fare questo, voglio sperimentare un sacco. Hai detto voglio fare perché ricordiamo che tu canti però produci anche. Sono il produttore di me stesso. All'inizio giravo pure tutti i videoclip, facevo i montaggi e diventevo pazzo. Avevo proprio zero secondi in una mia giornata liberi. Però si parte da lì. Prima parlavamo del video di Carillon che me lo ricordo bene. E' un successo incredibile, subito milioni di visualizzazioni. A proposito di quel tempo lì, cos'era il 2015 immagino? Ripensando a quell'anno lì, oggi secondo te per un artista che appunto, magari un ragazzo che sta ascoltando, appassionato di musica, che vuole emergere, che vuole buttarsi nel mondo della musica, è più semplice o è più difficile? Ma allora, è più semplice sicuramente arrivare a più persone perché abbiamo più strumenti. Quindi abbiamo Instagram, TikTok, abbiamo un sacco di modi per arrivare a più persone. Forse è diventato anche più semplice e accessibile il mondo delle strumentali, la musica in sé. Più complesso perché sono in tantissimi a farlo. Quindi forse è un compromesso un po'... E' simile a due o tre anni fa comunque. Però io consiglio comunque di credere sempre in se stessi e di mettercela fino alla fine. Perché comunque se credi in qualcosa, se credi in te stesso, se ami quello che fai, non ti fermano i pochi numeri o comunque le difficoltà che incontri. Quindi... Chiaro, oggi sembra quasi, infatti parlavi che siete in tanti artisti, tante canzoni, sembra quasi oggi più facile emergere, che puoi proprio restare sul mercato. Restare è molto più complesso. È molto più difficile. Molto più complesso. Allora, senti Mattia, prima abbiamo parlato di Sanremo, della canzone che ha... Tu sei consapevole che questa canzone Supereroi ha cambiato la tua vita, in primis, però ha influenzato anche tantissime vite di altre persone. Quando hai iniziato a rendertene conto di questo? Cioè, subito, appena finito Sanremo, durante... No. Dopo? Ma molto dopo. Cioè, io sto ancora metabolizzando tutto quello che è successo un anno fa. Quindi il fatto che io abbia anche tradotto banalmente Supereroi in spagnolo, stia andando in Spagna, in Spagna stia accadendo la stessa cosa che è successa qua, è una cosa che non avrei mai immaginato che una canzone potesse fare così tanto. Sono stato dal Papa due volte, ho fatto tantissime cose e la gente si confida e mi scrive tuttora. Quindi è successo qualcosa di magico, però ci ho messo veramente dei mesi a rendermene conto. Questa è una cosa bellissima. Allora, ne abbiamo parlato e quindi siamo qui in diretta live con Mr. Rain su Radio Bruno e l'ascoltiamo volentieri. Allora, questa è Supereroi. Supereroi, Mr. Rain qui in diretta su Radio Bruno, che oggi abbiamo anche la fortuna di avere qui. Ti stai divertendo, vero? Molto. Molto, molto. Allora, il nostro ultimo intervento insieme. Ricordiamo comunque, tra l'altro, io qua, per chi ci stesse guardando anche in tv, ricordiamo canale 73 del Digitale Terrestre, ho l'album Il Vinile. In questo caso, bellissima la copertina. L'hai scelta, scelto tutto te anche qua. Tutto io, sì. Il concept, comunque io e il mio team abbiamo studiato questo concept. No, no, è davvero bello. Ricordiamo comunque che, perché prima abbiamo parlato che il mese di marzo sarà pieno di in-store da fare, tra l'altro fra poco sarà anche a Reggio Emilia, ai Petali. Esatto, tra pochissimi minuti. Tra pochissimi minuti. Tra mezz'oretta, 40 minuti. E soprattutto il mese di novembre sarà incredibile. Esatto. Perché è una cosa che sogno da tantissimo tempo, e avere la possibilità di fare un tour nei Palasport, tra l'altro passerò da Milano, Roma, Firenze, farò un sacco di tappe, quindi siete ovviamente tutti invitati e non vedo l'ora. Ma ricordiamole comunque Ancona, Montichiari, Padova, Roma, Firenze e Milano per il mese di novembre. Tra l'altro tu a Milano ci sei già stato perché hai fatto un sold out al forum di... Esatto, il giorno prima del mio complanno. Quindi è stato un super regalo. Bellissimo. È stato stupendo, non volevo più scendere dal palco. Ha dovuto prendermi e portarmi via perché... Che bello. No, allora, prima di chiudere, toglimi la curiosità perché Mr. Rain sta studiando spagnolo. Noi lo vogliamo sapere. Perché sto scrivendo un disco solo in spagnolo. Voglio coltivare questo mio percorso anche all'estero. Voglio che la mia musica arrivi a qualsiasi persona e amo mettermi sempre in sfida. Quindi questa è l'ennesima sfida che mi pongo e tra l'altro è bellissimo perché conosci tantissime persone, fai session con musicisti diversi, cantanti che non conosci. È bellissimo. No, tra l'altro... È una cosa che ti fa crescere. Sì, sì, c'è un progetto che quindi sta per arrivare. Ricordiamo perché io ho letto anche qualche articolo che è uscito. Ho visto anche la storia Instagram che è per amesso di articoli che sono usciti i giorni scorsi. Ragazzi, Mr. Rain non finisce di fare musica. Ma assolutamente, no. Voglio prendermi una piccola vacanza. Solo quello perché sono giusto quattro anni che non faccio una vacanza e quest'anno per la prima volta mi farò un mese di vacanza. Dove si può dire? Brasile. Però è là, e vai. Lo sto dicendo a tutti. E vai. Allora ragazzi, per chiudere ha dato il suo ok, quindi chiudiamo con una esibizione live. Canti con me però. No, io non canto. Dai, un pochino. Io suono, io suono, va bene. Allora ragazzi, live Mr. Rain su Radio Bruno con due altalene quando vuoi. Ma non è facile se non sei con me. Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme. Anche se dura un secondo come le comette. Griderò, griderò il tuo nome fino a perdere la voce. Sotto la pioggia, sotto la neve. Sospesi in aria come due altalene. Grazie a tutti, grazie e complimenti. Grazie, grazie davvero. È stato un piacere, in bocca al lupo. Un piacere mio, viva il lupo. E noi ti aspettiamo poi a Radio Bruno estate quest'estate. Assolutamente. Grazie, grazie davvero. Ciao. Grazie mille, ciao a tutti. Grazie.